Io non so sinceramente la gente che cosa abbia nei confronti di M. Night Shyamalan, semmo che gli ha fatto qualche torto, boh, familiare. Per tutti ragazzi, io sono Andrea Doraz, o semplicemente Doraz, e benvenuti in questo nuovo video. Sigla. Oh, eccoci qua, benvenuti o bentornati sul mio canale. Ti lascio qui sotto tutti i link per seguirmi su tutti i miei social, che trovate in descrizione. In descrizione troverete, appena disponibile, come in tutte le recensioni di film, il link per acquistare il film direttamente su Amazon, poi da lì potete comprare anche altre cose, ma insomma, praticamente è per comprare il film, fate quello che volete. Stassi a mettere like al video e iscrivervi, anche se non l'avete fatto, non fate i pigri per favore, grazie, 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 grazie. Bene, bando alle ciance, oggi parliamo del nuovissimo film di M. Night Shyamalan, appunto, come dicevo, in apertura, ovvero tra, con protagonista Josh Hartnett, che abbiamo già avuto il piacere di conoscere in maniera abbastanza, o comunque che è arrivato ai più col film Oppenheimer, in cui interpreta, diciamo, uno dei protagonisti. Un attore veramente interessante, ma andiamo con ordine, perché, voglio dire due parole su M. Night Shyamalan, allora, perché dicevo che, sembra che qualcuno ce l'abbia M. Night Shyamalan, ogni volta che esce un suo film, ci devono essere orde di persone che devono insultarlo, distruggerlo, è successo se non sbaglio anche con Old, è successo se non sbaglio anche con Bussano alla Porta, per poi diversi motivi, è successo uno per un motivo, uno per un altro, questo per la musica, la marchettata, ed è quella della vita. Io non mi ritrovo molto in questi commenti, preferisco vedere il film e analizzarlo e poi eventualmente criticarlo in maniera positiva o negativa in base a quello che mi ha dato o a quello che ho visto, senza stare a pensare troppo a tutte queste cose che per me sono veramente inutili. Quindi, parliamo di Trap brevemente, di cosa parla il film. Per me già l'idea era interessante, sembrava una cosa figa, già dai trailer, un po' strana ma figa. Praticamente il nostro protagonista, Cooper, è un padre di famiglia perfetto, sembrerebbe, che decide di accompagnare la figlia a un concerto di questa Lady Raven, che peraltro, giusto per dire, è una figlia di M. Night Shyamalan, quindi per questo molti criticavano il fatto che è una marchettata nei confronti della figlia, che è una cantante, non la conosce nessuno, così la conoscono tutti, ma detto che in questo caso lei potrebbe interpretare qualsiasi pop star, perché nel senso potrebbe essere tranquillamente la copia di un'altra pop star qualsiasi, potrebbe anche starci il discorso del fare pubblicità alla figlia, però io non l'ho vista neanche così male, anche perché queste canzoni sì ci sono, ma se ne sentiamo un pezzetto di due, tre, niente di che, se non mi piace questa musica lo posso capire, ma non è che siamo, non è che è un musical, cioè ci sono due, tre canzoni, se ne hanno un concerto ci può stare, ecco tutto qua. Poi potranno fare anche un concerto rock, metal, va bene, però alla fine l'idea è che lui sta accompagnando la figlia, la veglia magari si sente sta musica, quel discorso. È un film che parla anche di noi generazioni, quindi ci può stare, secondo me. Quindi, dicevamo, è un padre di famiglia perfetto, il problema è che il film ci fa capire subito che non lo è per niente, cioè lui è un serial killer ed è conosciutissimo e si chiama Il Macellaio, mi ha ricordato un po' Dexter in questo senso. E anche in questo senso lo ricordo Dexter, il film perché? Perché nonostante lui sia malvagio, ci viene tutto opposto dal suo punto di vista. quindi noi in un certo senso sappiamo rispetto a tutti gli altri e rispetto anche alla figlia quello che è veramente Cooper e quindi è tutto basato sul fatto che lui venga scoperto perché, come vi stavo dicendo la storia, è che lui accompagna sì la figlia a questo concerto, ma viene a sapere, durante una serie di situazioni, che quel concerto è effettivamente una trap, quindi del titolo, per proprio Il Macellaio e quindi lì cominciano tutta una serie di cose. Allora, devo dire che a me il film mi è piacuro. Allora, quando io vedo un film, faccio così, tanto per farvi un po' capire in maniera divertente. parto da un due e mezzo. Dico, non mi aspetto nulla. Un film fa a metà, perfettamente a metà. E poi da lì, in base a quello che succede, do il voto al mio film, magari da tre, poi no, questa due e mezzo, tre, due e mezzo. Alla fine tiro una somma e viene fuori il voto finale. Ecco, questo film a un certo punto ha cominciato a farmi fare tu, giù, su, giù, che dicevo, no, questa cosa è assurda. Però questa cosa è figa. No, però questa cosa è troppo. Però questa cosa è figa. Allora, sicuramente il film ha degli enormi, a un certo punto, problemi di sceneggiatura, perché veramente certe cose non stanno né in cielo né in terra. Però io voglio assolutamente elogiare certe cose, perché, per esempio, allora, per me M. Night Shyamalan è un genio. È un genio a fatto dei film interessantissimi e lui la macchina da presa la sa veramente mettere nelle posizioni giuste. Vi faccio degli esempi quando viene inquadrata la faccia di Cooper con quei primi piani molto stretti sulla faccia con lui, che ha tutte queste espressioni quasi schizofreniche, in un certo senso a volte passa dal felice al serio, veramente infrangente, sembra veramente folle. E questo in realtà viene percepito anche dalla figlia, che lui è un po' strano, glielo dice, ma papà ma che chai, ma che intredo strano, sei un po' strano. No, no, perché? No, perché? No, perché? Peraltro lui è doppiato dal grandissimo Andrea Mete, che per me è un doppiatore fortissimo, veramente calamoroso. Ma Josh Arnett ha fatto un lavoro assurdo per quanto mi riguarda. A livello proprio attoriale è stato perfetto. Fortissimo, fortissimo. Niente da dire. Sicuramente a volte il suo personaggio fa cose veramente assurde, cioè va in posti dove, boh, lo sai benissimo, hai capito che c'è la polizia ovunque, dove cazzo vai. È vero che ci prova un po' per capire la situazione, fa ogni volta ha una sua scusa, però rischia, sembra uno che piace rischiare. Ripeto, proprio questo connubio tra un'ottima regia, comunque una discrita messa in scena, veramente buona in questo senso, rendono il film accattivante, cioè ricco di tensione. Nonostante noi sappiamo che questo è un serial killer che ammazza la gente a pezzi, ci crea la tensione. Diciamo, ma lo scopriranno, ma lo scopriranno, ma lo scopriranno. È difficile dare una percezione a questa sensazione che ci dà il film, ma sembra come se noi volessimo che lui venga scoperto. Però poi ci rendiamo conto che effettivamente è un padre di famiglia. Sembra così Dr. Jack e Mr. Hyde, questo personaggio, che ci crea un contrasto e questo secondo me rende tutta la prima parte del film davvero davvero interessante. Davvero davvero interessante. Poi, ovviamente non spoileremo in questa parte, poi la seconda è un po' più debole, o comunque ha veramente degli alti e bassi pazzeschi. Però, non che la prima parte non ce li abbia, però meno, gestita molto meglio in questo senso. Chi ha criticato del film, ripeto, per le musiche, le cose, o il film non l'hai visto, perché comunque secondo me le canzoni non sono così ingombranti. Poi se proprio non ce la fate a sentire due boom, 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 tutti questi suoni da trap, di queste cose qua, del pop, del mix, questa roba qua, è che vedevo dire, è assurdo. Odierete questa parte del film, ma insomma, il film dura un'ora e 45, dei canzoni ce ne saranno, ma se proprio vogliamo esagerare, 5 minuti. 5 minuti divisi in parti, perché poi non stanno, lui se ne esce, ritorna, rifà, insomma, il sottofondo. Non mi sembra una cosa da distruggere sto film, cioè, perché mi piace solo la musica fatta in un certo modo, lo capisco, però da qui a non poter sentire un mezzo secondo una musica diversa e di che il film fa schifo perché ci tocca a sentire sta musica da ragazzini, mi sembra una cazzata a me, a me mi sembra proprio una cazzata, a me non ha per niente disturbato, poi io, le musica, fino a un certo punto, sento un po' di tutto, quindi non è che... però non mi sembra, cioè, se fossero ingombranti, io non avrei nulla da dire, effettivamente la musica, tu coglioni, cioè se non ti piace quella musica è finita. Qui non è così, non è così secondo me. Poi, sulla marchettata, sulla figlia e tutto, possiamo stare qui a parlarne, per me non è quello il problema del film, non è quello dei problemi del film, il film ha diversi altri problemi e non sono questi secondo me, ma a un certo punto neanche ci interessa troppo perché alla fine, ripeto, morale di tutto questo discorso, il film funziona, il film funziona per determinate situazioni, per la tensione che crea una situazione in cui non ci dovrebbe essere tensione, perché stiamo parlando di un concerto, quindi vediamo lui che sta con la figlia, si, brava, però cerca a fare tutto per cercare di scappare, la FBI che lo prova a trovare, cerca di... fate quello, se fa questo potrebbe essere lui, fermatelo, fermate tutti uomini, e la polizia intorno che si muove, è lui che cerca di capire, cerca di fare... ripeto, su questo il film funziona veramente bene, la prima parte funziona alla grande poi dopo sempre con qualche inciampo quella però è divertente mi è piaciuto e arrivato fino alla fine abbastanza soddisfatto ogni tanto però per me M. Night Shyamalan ancora una volta se l'ha portato a casa sicuramente non è il suo miglior film sicuramente non ha più la genialità di un tempo e distruggere completamente tutto quello che avevamo visto per poi proporci in maniera diversa sui finali o finali particolari però comunque sono sempre film che sono ne fanno bene al cinema e per quanto mi riguarda per me è scritta verde 3 su 5 per trap di M. Night Shyamalan e niente io vi ringrazio per avermi seguito in questa recensione non spoiler vi mando un bacione ci vediamo nella parte spoiler giusto per dire due due cosette al volo proprio ok quindi se non avete visto il film non continuate con la visione spoiler mi sono segnato un paio di cosette giusto così per dire qualche scena che mi è piaciuta ripeto per me tutti i primi piani su di lui sono stupendi da lui mi viene in quale così da vicino che parla proprio alla telecamera con questa fascia così così vera sembra quello che lui dice è assurdo sappiamo che lui è un malvagissimo però è così convincente quando dice le cose bellissima peraltro tutta l'idea che alla fine alla fine in quella scena sono veramente interessante di confronto finale tra lui la moglie e alla fine lei lo sapeva che poteva essere lui ma voleva a tutti i costi sperare che non lo fosse infatti quando lei diceva perché ho seguito poi ci sono tornato ho trovato lo scontrino ho chiamato la polizia e per sperare che non fossi tu alla fine invece era effettivamente lui il macellaio quelle cose bellissime sono veramente interessante quella scena una delle scene migliori sul finale che ripeto un pochettino comincia a sfarfallare a un certo punto quando va da lei la cantante gli dice io so il macellaio quello che stava a cercare di far vedere l'uomo che aveva incatenato all'inizio insomma tutta quella quella parte lì poi comincia a diventare un po assurda lui che sevesse bravisce una suot traveste per portarvi a lei e poi dopo delle secondi in mezzo alla pola più un pia sparisce c'è nessuno dice niente cioè sono tutte cose un po eccessive anche quando gli sparano qualcosa con l'elettricità e lui riazza che lo sia fatto apposta per fermare una persona quindi non penso che lui si possa rialzare così non lo so però alcune cose sicuramente mi sono sempre esagerate anche la scena che va lì dai poliziotti a sentire che dicono per rubare poi per far caffè poi gli ruba il microfono per sentire quello che dicono cioè sono cose che ti vai a mettere in una situazione che può essere che ti sgiamano insomma è vero che lui fa tutte le cose penso che questo film sia molto psicologico in un certo senso cioè il fatto che se tu ti butti in mezzo alla polizia è impossibile che sei il serial killer no questi questi ragionamenti qua sicuramente avranno fatto mentre scrivevano la sceneggiata del film è un po complesso in questo senso anche quando va sul tetto c'è lui che fa si aspetta che non ci sia nessuno sul tetto è ovvio che ci siano qualche poliziotto infatti c'è un attimo 10 gli dicono ma lei che ci fa che poi lui si inventa la cosa che è successo un incidente che peraltro lui stesso ha causato nella cucina insomma delle cose fighe bellissima la scena finale col col tizio che lavorava lì che ha arrivato la maglietta che scopre che lui la scena è grandiosa secondo me è veramente divertentissima il film è anche un po questo sentore cioè è su questo filo è serio ma le situazioni che ci fanno sorridere secondo me perché è veramente a un passo la linea è così sottile che crea questo senso un po di grottesco secondo me a livello di situazione però non mancano certamente i momenti un po più effettivamente seri quindi niente queste erano un po le scene che mi hanno fatto un po salcere il naso che mi hanno piaciute le scene della musica possiamo criticarle quello che volete ma sono talmente poche che per me non ha non ha in gran senso stare a parlarne troppo oltre lui è un po forse troppo superi righe un po troppo schizofrenico beh là però l'attore è stato fortissimo veramente bravissimo e quindi alla fine M. Night Shyamalan sarà portata a casa io non voglio aggiungere altro magari se vi è piaciuta qualche altra scena fatemela sapere sotto nei commenti così magari ne parliamo simpatica anche il cameo dello stesso M. Night Shyamalan che come quasi di consueto appare nel film e niente grazie a tutti avermi seguito in questa parte spoiler e niente noi ci vediamo a un prossimo video vi mando un bacione 6 su 5 ciao a tutti 6 su 5 di a casa grazie a tutti grazie a tutti